musica musica benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video di Jabbitek siamo ritornati oggi con una challenge scusate eh si scusate vicini siamo a casa di Giorgio e mi sto facendo riconoscere siamo ragazzi oggi con una challenge Giorgio che challenge la signora delle challenge challenge vista fatta da alcuni inglesi con uno strumento di tortura utilizzato solitamente dagli odontoiatri cosa dobbiamo fare con questo ragazzi dobbiamo essere evidente così un minchia si metteva accanto effetto e dobbiamo fare tutte le video così ma prima vi spiego cosa dobbiamo fare cosa andrò a fare in questo challenge andrò a fare cazzo andrò a fare alcune cose normali apparentemente che però con questo strumento non saranno per niente normali c'è da dire ragazzi che già Gianfretto che farla male senza questo non si è capito un cazzo allora iniziamo con le nere adesso lo voglio scegliere io anche che sono marcele quanto hai speso? 2 euro cazzo non le ho caprate? le ho ruvate le ho lavate le ho lavate prima di andare a casa le ho lavate? si dai 3 2 3 2 ah 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 E' quello che ci vuoi Sto gassiando Che cazzo la ragazzi Non giusto un fuoco di me, lo che fa bene Adesso capisco cosa è la Ti sto soccando il no Tieni Stai ingagliare Oddio Non mi sudai mi faccia C'è un falsetto di me la in faccia Tu hai una dappertutto Si è? Alla dovevo bere un fuoco Un attimo che arrivi meglio Ecco Alla salute Ti esco lì ma si rivela Questo bicchiere non sovelo funzionare Io lo diamo Eh no Lo funziona proprio Alla mangiare Si mi andavo prima del salato Si da qua è la città della frutta Della frutta città di salato Minchia come hai fatto a cacchierla Ti rego Un attimino Si dice Minchia lo riesci a dire con un card Si guarda Ahahahah Che cazzo di Acqua Finisce Un zenzino Si guarda che sono solo trucchi Salati Non si f posing Non f�mo di acca Non fa d'acca a te Non fa d'acca a me Ahahahah Aicchi Que cazzo Cazzo Davi, che schifo Ok Dai, tanti voletissimi Che ne chiamo nel menù adesso? Gancicare un faroncino Non neanche un faroncino Che? Sei schifo Gancicare un faroncino, questo non deve essere sempre Cioè Io, allora, allora Eh? Guarda Che gotta Cosa, io ce l'ho messo Uno, due, tre Che cazzo Cosa, giverte qua Uno Uno Due Tre Inca lo schifo Secondo me vuole un po' di mela Che cosa, cosa è so? Che schifo No! Nella, 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 nel, 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 nel ruolo periodiale I gargarine, si Dove ce la inseriamo questa? Questa la voglio scegliere Accendino Hai 600mila Hai 600mila iscritti Cazzo non riesco ad accendere Inizisci anche le funzioni inventali Ma si accendere ma accenderà Mi spavento che mi feroci Dai allora Tante Sento Ok l'accesso allora non si vede un cazzo Aspetta Dai segno Uno Due di S60m Oh Ma che cazzo è? Oh Non dai su male Non ci sogna Ah Che scherzo Oh Dai Non ci sogna Anche io Dai Che scherzo Ogni volta Dai Ti aggrasso ogni lento Ah 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 Mi sto rinunciando Ah Che scherzo è Ah Ah L'affetto è lento E' mio amico L'ho ingaggiato Ok ragazzi Ok ragazzi Direi che per questo video Posso essere tutto Se la video E' gramastica E' la scoccia Ce l'avecino da Linda Spero che questo video vi sia riasciuto Se così si fosse Arrivò a 15 mila like E' un altro sito del genere Con questi casi da dentista Ringrazio Giorgio che vi ha aiutato a fare questo video Che scherzo c'è del materiale fuori forni col suo interno Adesso La mia pulita Adesso Un cin cin Per questi 600 mila iscritti Allora Vieni qua Allora saluta E' andato di qua Allora